Urca bello urca tutti e rieccoci qui nella seconda parte dello scorso video raga Oggi vi mostrerò dove trovare appunto la location della fase 2 suona la partitura vicino a parco pacifico Questo ragazzi è il luogo, eccoci qua, quindi i passaggi sono semplicissimi Bisognerà innanzitutto andare sulla C, poi sulla E, poi sulla G, poi sulla E e infine sulla C E ragazzi Avete visto? Abbiamo finito la missione ragazzi Quindi C, E, G, E, C Ragazzi ricordatevelo Quindi io spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando ragazzi così è stato Lasciate un bel mi piace E qui da Luzius è tutto Ciao 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 Ciao